Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video dei milanisti del web ritorno sul canale dopo la domenica di pausa dopo il boato di visualizzazioni fatte con l'ultimo video l'angolo del regino che avviso nei prossimi giorni tornerà dunque tranquilli parleremo di mercato appena il mercato si concluderà parleremo di mercato della regina del milano e magari anche delle altre squadre dunque aspettatevi se riesco a fare un po' di video questa settimana riusciamo a portare una settimana bella carica di contenuti video di oggi parliamo di milan spezia 3 a 0 facciamo una breve analisi e parliamo della partita allora partita premesso che non mi aspettavo un grande milan sia per la squadra scesa in campo sia per tutta l'atmosfera intorno diciamo anche l'ambiente non era con tutto il casino juve napoli un ambiente un po' così dunque sulla questione juve napoli ho deciso di non espormi perché non ho letto tutti i comunicati dunque non vorrei dire cose che non sono vere dunque mi limito a oltrepassare parliamo di milan milan che appunto dicevo non mi aspettavo una grande partita per tutto l'ambiente comunque calcio un po' scossa da queste notizie soprattutto anche dalla partita con Rioave c'è la stanchezza anche mentale secondo me perché sono tre settimane che giocano ogni tre giorni con gente che veramente non è abituata perché l'anno scorso facciamo solo il campionato praticamente tranne la Coppa Italia però siamo usciti subito e poi è una partita ogni mese la Coppa Italia dunque niente di che dunque detto ciò poi vedendo la formazione ho pensato ok secondo me è la migliore che poteva mettere in campo tra virgolette giocava con Colombo punta secondo me è buona punta diciamo quello che per caratteristiche fisiche è più simile attenzione ho detto che è forte quanto è uguale per caratteristiche fisiche è più simile a Ibra di Daniel Maldini Daniel Maldini lo vorrei vedere magari schierato nei tre trequartisti come praticamente ha fatto Brian Diaz in verità Daniel Maldini secondo me potrebbe giocare ma seconda punta e il Milan ora come ora non ha una vera e propria seconda punta se non Rebic che però parte dall'esterno ma molte volte va a fare la seconda punta dunque non lo so perché comunque il centrocampo a due funziona bene e metterlo a tre per mettere Celanoglu dunque era un po' un casino secondo me è giusto mettere Colombo Leao largo a sinistra non una grande partita di Leao poi ha fatto il gol dunque comunque la sufficienza se la porta a casa anzi ne ha fatti due dal gol ha giocato un po' più tranquillo tentava troppo secondo me magari ha il suo modo di giocare così lo voglio più meno tecnico e più fisico Leao deve sfruttare più le sue caratteristiche fisiche secondo me quando è ovviamente deve anche fare un bel mix però secondo me nel saltare l'uomo Leao dovrebbe usare più il suo strapotere fisico perché come struttura fisica Leao è ben piazzato perché è longilineo Falcata ce l'ha in progressione corre Leao leve lunghe dunque fisicamente non è fisicamente imponente però è agile secondo me e poi è bello alto dunque secondo me più che la tecnica dovrebbe usare sull'esterno il fisico poi Pioli lo sposta prima punta facendo uscire Colombo entrare Cialanoglu che dà più vitalità alla manovra del Milan cambia i centrocampisti anche lì Krunic non mi è dispiaciuto anzi non ha giocato male Krunic per quello che poteva fare Tonali lo vedeva un po' troppo poca personalità recuperava palla recuperava tanti palloni ma non tentava la giocata da lui mi aspetto di più come hanno detto molti milanisti anche sul web da lui ci si aspetta di più dunque per me non è sufficiente ma non è neanche una bocciatura ovviamente è arrivato da un mese neanche ha giocato due partite diamoli tempo comunque passare da Brescia a Milan non è mai facile dunque così la difesa Chiaro ormai stranamente sta giocando bene con continuità con continuità Gabbia secondo me non è un fenomeno potrebbe migliorare potrebbe ovviamente speriamo migliori però dai comunque queste partite gli serviranno in futuro comunque l'assenza di Romagnoli tra l'altro oggi è l'ultimo giorno di mercato vedremo se si chiuderà qualche colpo e poi valuteremo anche il mercato del Milan dunque i terzini Calabria ha rischiato pure di fare autogol Calabria su un passaggio un retro passaggio donna Romagna non so neanche se era un report troppo va beh Hernandez un treno veramente dopo due o tre partite un po' chiaro o scuro sta partita l'ha giocato bene mi ricordo due o tre galoppate oltre al gol dunque bene Hernandez ora abbiamo la sosta pensiamo all'Inter allora riposiamoci un po' avremo Ibra al top della condizione visto che non gioca da un po' e fra poco credo finisca la quarantena vedremo se sarà negativo e poi andremo a giocare contro l'Inter salvo imprevisti covid e sarà strano vedere un derby senza pubblico cioè a parte i mille il mio sogno sarebbe stare in quei mille magari ci sarò non lo so vedremo magari riesco a fare questo miracolo e vedere un derby un po' in privé no vedere un po' senza sentire gli allenatori vedere i giocatori bene è tutta questa cosa qui iscrivetevi al canale lasciate like condividete seguiteci su Instagram seguitemi su Instagram e sempre forza Milan questa è la maglia del nostro capitano che ha giocato benissimo mi sono dimenticato di dirlo grande Gigi io vi saluto bella ragazzi